Questa era la novena del Natale. E come veniva recitata? Come dicevano? Anzi, signor Presidente. No, era la novena del Natale. Si è lodata quell'ora e benedetta. Quando tu madre di Dio fosse eletta. Per sempre e benedetta e si è lodata. Il nome di Maria Immacolata. Quell'ora quando foste annunciata. Da ricordo. Questo si cantava. È lodata sia quell'ora e benedetta. Quando madre di Dio tu fosti eletta. Per sempre e benedetta e si è lodata. Quell'ora quando foste annunziata. In patria, la novena del Natale. Annunziazione. Annunziazione il 25. Marzo. E 25 Natale. Giusto nove mesi. Poi come diceva ancora, questa continua è lunga. Io me la ricordo vagamente ma ce l'ho scritta. Poi dice benedetta e si è lodata. Quando le tue mani hanno Dio fasciato. Quando il tuo seno ha Dio allattato. Ma mai scusato. Quando mi lasti Dio in terra nata. E poi si ripeteva sempre. Per sempre si è lodata e benedetta. Quando madre di Dio tu foste eletta. E sempre benedetta e si è lodata. La Santissima Vergine Immacolata. Immacolata. E in patria, l'ora non è stato pronunciato lo Spirito Santo. E non è che là non c'è mano d'uomo. Per opera dello Spirito Santo. Ecco. Sì, sì. Ci sono per lo Spirito Santo. Qualche cosa che ti ricordi del Natale, della novena di Natale. Che venivano con dalle campagne a piedi la mattina. Ah, sì. Ti ricordi? Si faceva presto, no? Sì, si faceva presto. Perché la gente viene a faticare. Viene a faticare. Viene a faticare lì. Allora c'è il padre di Don Domenico di Paola. Sì. C'è così. Questa casa ha un allagio perché le gioco ne è cosa ha qui. E quattro. E quattro? Già ricordi alla messa? Già. Facce la funzione. Ah, le quattro. Sì. E la chiesa era sempre piena? Sì. E come cantavano proprio il Natale? Qualche canzoncina del Natale? Eh. Come stava giudicando. Ti ricordi qualcosa della novena? Ma no, ma no. Ma no, quando è il tuo annunziato. Eh, però qualche canzoncina, tipo Bambinello Bello Bello. No, non volevo. No, sai che sta accadendo? No. E poi l'ho trovato tutto il bambino, proprio dal 25 al 25. La notte di Natale. La notte di Natale. Eh, della notte di Natale. Che ricordi? Come facevano? Facevano una messa? Eh, sì, una messa. Ma stava giudicando. Poi si è a base a un bambinello. Sì, dove la messa? Era piena così? No, noi si potevano tirare. Iniziali alla casa, sono stati giudici. Eh. Da, c'erano tanta gente, l'annate, che non si potevano... Entrare. Ah, non si potevano stare. Mamma mia. E poi ti ricordi quando tiravano la stella? Eh, grazie. Eh, tiravano la stella quando era... All'Epifania, il 6 gennaio. Facevano però la processione con Gesù Bambino. Sì. Il 6 gennaio. Con le bandierine. Con le bandierine. Le bandierine che fanno il suolo. Sì, sì, sì. Il suolo. Il suolo, dove c'è? No, e mica stanno fanno i bandieri chiù. Prima imparavano a ricamare, imparavano a fare qualcosa. Ma che fanno? Sì. Allora, tiravano la bandierine a mano, facevano la processione, Gesù Bambino. Sì, sì, tutto il paese. Tutto il paese. Il pomeriggio del 6 gennaio. Eh, sì. E poi quella cosa che dicevano, che dicevano i morti, fanno la processione la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Ah, sai questa cosa? Ma è stata la cosa con la finestra. Eh, che si metteva pure la finestra? La luce. Eh, che dicevano che passavano le anime dei morti. Eh, le anime dei morti, sì. Tra il 5 e il 6 gennaio. Pasqua e bofania. Pasqua e bofania. E infatti si dicevano tutti i festi, essere e venessere, Pasqua e bofania non mai venessero. Eh, sì. Ma... Pasqua e bofania sono accostate con l'uccisione dei bambini quando esero là. La strage degli innocenti, no? Eh. Quella tra Natale e Capodanno. Eh, perciò. Ti ricordi qualche altra cosa del Natale, del... Qualche canto che si cantava a Natale particolare, proprio tipicamente nostro? No, non lo ricordi. Qualche Ninna-Nanna? No. No. No, no, no. E vogliamo lanciare un messaggio ai giovani che ultimamente non partecipano più alla vita della Chiesa. Questo è un po' un po' dappertutto, ma qui in modo particolare. Sì. Allora, loro devono pensare che la vita passa e il nome resta. Mmh. La vita passa e il nome resta. E per quanto riguarda queste tradizioni, queste belle cose che tu sai, secondo te devono finire con la vecchia generazione, oppure devono essere tramandate? Tutti questi belli canzongini. Sì. Si deve raccontare l'umale. Eh. Perché un Signore aiuta. Eh. Tutte queste belle tradizioni, questi canti popolari. Sì. Queste preghiere antiche, è vero. Un Signore aiuta, aiuta sempre. Eh. Eh. Sì, sì, facile. Sì, se non il mondo va a finire. Eh. Che veramente è così? Questo vuol dire. Grazie Giuseppine. Sì.